gentili telespettatori buona giornata e così pino insegno dice io appoggio meloni come persona se nel suo partito sbagliano sono affari suoi cosa vuol dire appoggio meloni come persona cioè no come persona e non come politico ma poi appoggio meloni come persona cosa vuol dire uno può dire appoggio meloni come politico appoggio quello come calciatore ma appoggio meloni come persona non l'ho capita se nel suo partito sbagliano sono affari suoi beh ovvio di chi è di chi devono essere affari di pino insegno va bene comunque non stiamo lì a fare come si dice le pulci a ogni parola che dicono le persone perché sennò non ce la caviamo più geni oggi non ce n'è più da nessuna parte pino insegno torna in tv con il programma reazione a catena dopo il fallimento dell'eredità perché un programma vecchio vecchio che non funziona più in un'intervista alla stampa di qualche giorno fa dice che del programma la vera novità sono io che torno dopo atto anni al timone parla anche del di quello che si dice su pressioni ad amadeus per cenare con lui dice sono notizie false ma le pare che meloni telefoni per chiedere ad amadeus di andare a cena con pino insegno e poi a che scopo dice tra l'altro io e amadeus siamo amici a oia a fare cena insieme dice non c'è stata nessuna pressione politica nemmeno per mercante in fiera io non smaniavo certo per andare avanti quando stai perdendo 5 a 0 forse conviene fingersi infortunato e uscire restare in campo è stato faticoso avevo accettato il programma perché avevo voglia di tornare a giocare in tv mai avrei immaginato tutti quegli attacchi frontali era il mio primo flop in 40 anni di carriera in una fascia dove era impossibile fare meglio allora sì quello quello che facevano pressioni ad amadeus per andare a cena con pino insegno è una sciocchezza credo che anche ripeterla è un'offesa perché è una roba veramente che non sta né in cielo né in terra non può essere vera una cosa del genere figuratevi il governo che dice ad amadeus o qualcuno del governo senti vai a cena con pino insegno diventate amici che è una bella che è una bella cosa ma dai ma 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 questo è veramente ne senti di tutti i colori per quanto riguarda poi pressioni politiche per mercante in fiera voi sapete perfettamente che oggi il governo per legge è a capo della rai lo dice una legge fatta da renzi nel 2015 e pertanto oggi la rai è sotto il controllo diretto del governo quindi che ci siano pressioni politiche o decisioni politiche mi sembra legale per legge c'è proprio la legge che praticamente lo lo fa intendere e poi dice insegno dice che l'ostilità nei suoi confronti è nata con la partecipazione a un comizio di fratelli d'italia ma rifarei tutto certo perché devo rinnegare un'amicizia tra l'altro non c'è un uomo più democristiano di me quando aprì la prima accademia d'arte gratuita ringraziando l'allora presidente della regione lazio storace nessuno disse nulla appoggiai anche renato nicolini a roma che era di rifondazione comunista ma non mi importava era bravo diede vita all'estate romana sono amico pure di rutelli e walter veltroni poi però vado dalla meloni e casca il mondo e aggiunge che all'epoca avevo appoggiato giorgia meloni come singola persona perché so chi è e approvo quello che fa beh allora come politico non come persona pino pino appoggio la meloni per quello che fa è un politico quindi fa politica quindi apprezzi la meloni per quello che fa in politica non come persona cosa c'entra come persona ma dai su e che cavolo come singola persona non vuol dire niente perché so che so che è e approvo quello che fa quindi c'è un po ha un po di confusione sulla singola persona e approvo quello che fa approvo quello che fa come politico non come singola persona come singola persona cosa fa sul marciapiede sta a destra o a sinistra gira a sinistra o a destra al prossimo incrocio con la macchina quindi apprezzo la meloni come persona e poi dice quello che fa vabbè ho scelto una persona ho solo scelto una persona perché poi dice poi se qualcuno del suo partito sbaglia qualcosa sono problemi suoi ma se stai dicendo che la prezzi come persona perché parli del partito politico ai 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 sono problemi suoi non è che io appoggio tutti quanti ma se hai detto che appoggi la meloni come persona perché poi dici che non mica posso appoggiare tutti quanti i politici del di fratelli d'italia se stai parlando di che apprezzi meloni come persona perché poi parli dei politici c'è un po di confusione pino insegno è puoi anche dire che apprezzi la meloni per la politica che fa che sei un fans di fratelli d'italia solo che oggi oggi con l'odio che c'è politico capite che esporsi fino a dire quale partito ti piace diventa un problema quindi lui dice no come persona però se sbagliare i politici non mi interessa io non è che posso appoggiare tutti ma se appoggiavi lei come persona perché dovresti appoggiare tutti i politici di fratelli d'italia vedete che c'è un po di confusione eppure dice io ho solo scelto una persona che peraltro poi è stata eletta ma scusi pino insegno cosa vuol dire ho solo scelto una persona hai scelto la meloni scelto cosa vuol dire ho solo scelto una persona cioè hai scelto di parlargli di non parlargli che cosa vuol dire ho solo scelto una persona non riesco a capire che peraltro poi è stata eletta eppure si è parlato meno della ferragni che di me e senza che io facessi nulla di grave no si è parlato più della ferragni che di pino insegno pino insegno ma cosa stai dicendo si è parlato più di pino insegno che della ferragni ma questo non è vero assolutamente assolutamente sì non ha fatto assolutamente nulla di grave ad andare a trovare la meloni a palazzo chigi però poi la gente ha detto ah vai a trovare la meloni da palazzo chigi adesso vedrai che avrai un programma in rai infatti poi è arrivato comunque se uno stima la meloni deve avere il coraggio di dire stimola meloni punto e basta cosa volete voi no come persona ma però ho scelto lei un bel po di confusione questo pino insegno insomma pino 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 eh mannaggia arrivederci a tutti quanti grazie e ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci buona giornata ciao 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 ciao